Hola, un saluto, io sono Giovanni, benvenuti a questo nuovo video, ti presento un programma gratuito chiamato Calibre Portable che ti permette di organizzare, convertire e cargar libro elettronico. Il principale uso del Calibre Portable è la catalogazione di texti per avere una biblioteca elettronica organizzata. Calibre Portable recupera e-book di informazioni di Google Book, di Amazon e di molti altri. E ti permette di cambiare il titolo, l'autore, le etichette e i commenti. Una caratteristica molto utile del programma è la capacità di convertire il logico elettronico in vari formati. Il programma lo puoi descargare dal sito www.calibre.guionebuc.com Diagonale, download, 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 sobrallare, portable. Una volta che stai attenzionato, faccia clic qui in questo link. Questa è la ultima versione del giorno di oggi, 22 April 2014. Quindi faccia clic qui. Ora busca una posizione in tuo computer dove vuoi guardarlo. Io, per esempio, lo pongo in il desktop, in la carpeta Programas. In il final faccia clic in Guardar. Ora ti ne solo che sperare che la descarga termine. Il tempo depende sempre della velocità di tua conexione. Terminata la descarga. Ora vamos ad aprire il programma per questo. Tienes che andare in la carpeta che legiste. E faccia clic o doble clic sobre il file descargato. Ese è come ti sto mostrando. Ora haces clic in Ejecutare. Busca una posizione in tuo computer dove vuoi guardar il programma. Io lo pongo in la misma carpeta Programa. In il final haces clic in Aceptar. Ora tienes che sperare. Esta è la carpeta del programma. Quiero ricordare che questa è la versione portabile del programma. Quindi non si va a instalarlo in tuo sistema operativo. Ma lo puoi portare contigo in un pendrive. Per tenerelo sempre contigo. Quindi faccio clic in Aceptar. E faccio clic o doble clic sobre la tua icono. Eccolo come ti sto mostrando. Ora elige un idioma. Io lo leggo in spagnolo. E faccio clic in Siguiente. Ora tenere il ebook reader o dispositivo mobile che tu usi per leggere il tuo libro elettronico. Ora la parte del programma. Eccolo come ti ho. Eccolo come ti ho. programma si quieres modificar la operazione che hemos hecho ahora entonces haces clic en questa frecchita luego in preferencias e luego in ejecutare l'assistente di benvenida per un momentito e ora ti permette accedere nuovamente la procedura che hemos hecho primero entonces si quieres modificar il idioma si quiere modificar l'ebook reader e al final sempre la misma cosa e ora si abre el programma lo tenemos aquí ok ora vamos en el programma esta è la ventana iniziare del programma come te fantastico meraviglioso programma te permette de hacer mucha cosa te permette de editar metadatos te permette de convertir tu libro digitales te permette de obtener libros de comprar libros de e descargar notizias e molto 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 altro in questo video io in questo pequeno video quería mostrarti presentarte il programma mostrarti dove descargarlo in questa pequeñita configurazione perdon te preoccupi e ho fatto un altro video tutorial e ho fatto un altro video tutorial e sobre il programma dove ti muestro come per esempio convertir tu libro elettronico o te muestro come descargar notizias come organizar tu libro digitales e molto altro espero che questo video te possa servire spero che ti guste spero che il mio spagnolo sta migliorando un pochito spero che ti iscribes a mio canale o mio fanpage e spero di verte nel prossimo video un lindo saludo ciao